Quanto costa un abito così? Inestimabile, cioè non posso farti una stima perché tutto dipende dalla quantità di oro che viene impiegata e anche dalla qualità della conservazione. Ti posso dire che per esempio per un collare dei polsini possiamo arrivare anche a 2000-2005. Questo giubbino invernale, se è antico lo vendi a 300 euro, per fartelo confezionare moderno arrivi anche a 500 perché devi comprare la stoffa, te lo devi far fare. Però sicuramente lì dove trovi oro zecchino, per esempio una mantellina può avere un valore di 2000 euro. La più preziosa è l'ansilona che è la gonna rossa con i ricami in oro zecchino che può anche arrivare a 20.000. Qui ci troviamo al cospetto di alcuni accessori dell'abito tradizionale di Piana.